Arancia, lampone, limone, menta e cetriolo. Ma è necessaria tutta questa decorazione in questo cocktail? Adesso lo andiamo a vedere, ci servirà un tumbler alto ghiacciato e per iniziare ci mettiamo una fettina d'arancia e ghiaccio. Poi andiamo a versare l'ingrediente principale, il Pimps number one. E andiamo a mettere due once, 6 cl. Babo, two, three, four, five, six, seven. Dopo questo liquore a base di zenzero, erba aromatica e ginepro, andiamo a colmare il bicchiere con il ginger ale, che è una bevanda preparata con estratti di zenzero, acqua casata e zucchero. Dopodiché una leggera mescolata per coinvolgere tutti gli ingredienti e stare attenti a non sgasare la bibita. E terminiamo con la nostra fantastica decorazione. Questo cocktail è come lo sprizzi in Italia, ma in Inghilterra, cioè che va tantissimo. Ed è pronto il Pimps Cup.